Cambio al vertice della compagnia dei carabinieri di Vallo della Lucania. Il capitano mennato Malgeri assumerà infatti l'incarico di aiutante di campo del comandante interregionale carabinieri Vittorio Veneto. Lascia l'incarico al nuovo comandante, il capitano Annarita D'Ambrosio, proveniente dalla scuola allievi di Campobasso. Dopo quasi quattro anni di lavoro intenso, sviluppato lungo due direttrici, controllo del territorio e tutela dei cittadini, l'ufficiale lascia il Cilento dove ha ottenuto eccellenti risultati, sia sul fronte istituzionale che su quello della polizia giudiziaria, con diverse operazioni messe a segno nel corso di questi anni. Nei giorni scorsi il saluto al capitano Malgeri da parte del procuratore di Vallo della Lucania e dei sostituti con il quale l'ufficiale ha collaborato in modo professionale e totalizzante.